Non c'è nessun Presidente che viva boia vecchio, spero di essere io. Stadio Appiani, si ricorda in quell'occasione con chi c'è stato per la prima volta? La data esatta? No, ma diciamo che io ricordo le partite le più significative che abbiamo fatto, che ha fatto il calcio padovano, insomma le dico abbiamo come padovano, ecco il Torino, il 4 a 4 del Torino, dopo anche altre partite con l'Inter. Io ricordo che dentro Appiani ho vissuto tutta una vita, perché io abitavo in Corso Vittorio Emanuele, pertanto era una parallela a via Giusea Carducci, cioè dove c'è Appiani. E io sentivo l'aria e l'entusiasmo dell'Appiani, la sentivo da casa. Io ho sempre frequentato il calcio, ho diventato amico anche di Rocco, ero in amicizia con Cesarin, anche con Polazzi in quei tempi. Polazzi che era Presidente, erano tutte nella parrocchia di Santa Croce. Appiani si viveva intensamente, gli andava tutto bene, anche quando andava male. L'episodio ce ne sono molti, però quello che era più importante, eccetera, di vedere e stimolare questi ragazzi per creare entusiasmo per questo padova, non è stato difficile perché erano tutti gasati e predisposti a fare bella figura col calcio padova. In periodo di Rocco io direi che è stata una meraviglia con Rocco. era una sicurezza, nel senso che una squadra della provincia che si batteva contro squadre come Mila, Inter e Juventus, che si batteva alla pari con tutte, perché aveva la difesa più forte, credo, della Serie A, come difesa. Dopo bisognava fare il gol, scagnelato, era una cosa che è rimasta attaccata alla società, alla squadra e a Padova, è rimasta a Padova, se no l'avevano chiesto più di una volta di andare a giocare nelle squadre, diremmo, di più prestigioso del Padova. Si ricorda qualcosa in particolare di Rocco? Magari qualche cena da cavalca, qualche persona di questo genere? Ne abbiamo fatte cene da cavalca? Molte? Si racconta? Io ricordo, io ricordo le battute fatte con Brighenti, Brighenti, e diceva guarda sto monaco qua, esoga, esoga, in maniera divina, eppure diceva non è in grado di venire fuori, e lo prendeva in giro, prendeva in giro, era un stimolo per dare la carica anche a Brighenti, far capire la coppia Brighenti e Mariani, che avevano delle grosse possibilità, di fatti sono andati in nazionale. Con la mima noi andavamo da cavalca perché era un ristorante che si respirava l'ambiente del calcio Padova, era continuamente frequentato da giocatori calcio Padova, da società, e sia la mima che cavalca stesso, erano veramente forti, non solo a livello del menù, di come si mangiava, ma così di tutto l'insieme. Si giocava veramente per andare, prima la serie B, dopo la serie A, si giocava veramente alla grande, pieno di imprevisti, di emozioni, erano veramente i tempi che si metteva nelle condizioni di un nervosismo particolare, non c'è nessun Presidente che viva boia vecchio. Spero essere io, ma a fortuna sono venuto fuori, e adesso tira avanti perché il prossimo anno, adesso 89 anni a dicembre, dunque, il prossimo anno 90 anni e siamo ancora qua, grazie a Dio. Portati bene. Perché ha comprato il Padova? Sicuramente non sarà stata solo una scelta aziendale, credo che fosse un super specie da ragazzo, ma anche o no? Il tifo, il tifo, la passione per il calcio Padova, è una cosa che la sentivi dentro veramente, e io ho cercato, ho creato una società, i principali eravamo noi come discorso della società, della nostra società, però è venuto dentro dei soci che sotto l'aspetto potenziale erano i più forti d'Italia. Dopo bisognava verificare la volontà di spendere, ma eravamo forti, insomma, sotto l'aspetto. Parlare ai tifosi, ai tifosi stare attenti prima di criticare o di non aiutare un presidente. Bisogna avere alternative, e a Padova alternative ce ne sono poche. L'esperienza da presidente, la sua famiglia come era vissuta? La mia viviva male, nel senso che era impegnato a vedermi, impegnato per il calcio, nervoso, che non dormivi alla notte, o quando andava male, che ti trovavi i tifosi che ti fischiavano, è dura, è dura il calcio, è dura. Perché io venivo fuori dall'ambiente del Petrarca, l'ambiente del Petrarca, il quale era un ambiente di sportivi, il Petrarca era la squadra, era la squadra più forte del Padova ai tempi, io ho letto tutta la cronaca del Petrarca vecchio, dal 1910, era la fine del mondo del Petrarca, era una scuola, non solo di calcio, ma anche la scuola sotto l'aspetto morale, diciamo, che era veramente molto, molto valida, e le famiglie aderivano, partecipavano proprio perché aveva questo spirito, non solo la passione al tifoso del calcio, ma perché tutto l'ambiente aiutava a crescere nell'ambiente dei gesuiti. ma io ho avuto una grossa fortuna di avere di avere avuto un collaboratore molto vicino, amico, e capace, e esperto di Nicola Voltano, molto forte, molto valido, e direi che è stata la mia fortuna. Ero nella società ancora ai tempi di piloto ed ero vicepresidente, più stravagante del piloto. Cosa faceva? Era un tifoso incontrollabile come tifoso e dentro nella società prendeva delle iniziative che magari non eravamo tutti d'accordo, però era uno che se ne intendeva di calcio. E i direttori sportivi? Agradi, Agradi, il nome eccezionale, il nome eccezionale perché nella ricerca diciamo dei giocatori era molto bravo perché aveva un capello che per esempio vive insieme con Agradi. Eravamo in contatto con Buonimperti, un amico che veramente è stata la vendita di Del Piero è stata fatta da Agradi a Giampietro. Poteva andare al Milan, poteva andare al Milan, però Agradi puntava verso la Juventus. Allenatori molto validi per esempio come Buffoni o Giorgi sono veramente persone eccezionali che hanno dato un grosso contributo al Padova. Buffoni era uno che sapeva gestire la squadra, gli uomini in maniera veramente valida. Di tutti è Galderisi. E Galderisi c'era anche Ottoni grossi personaggi da re da re e quando vedevo da re dicevo che era quello della casa di cose che chiedeva sempre soldi. Perché era capitano che chiedeva i premi? Capitano ma era rappresentativo dei giocatori e uno che faceva l'università e per tanto aveva una base culturale al di sopra degli altri risultati. La più grande delusione vissuta da presidente? Delusione? Delusione? Delusione più grande era che nell'ultimo minuto magari ti segnavano il gol che decideva di non fare quel salto di qualità che si prendeva noi pretendavamo fare il salto di qualità ancora prima di quando siamo andati in Serie A o in Serie B e ogni volta era una delusione perché non arrivavi in oma ma l'ambiente è molto difficile l'ambiente difficile era incontrollabile pagavano i giocatori pagavano arbitri dove noi non abbiamo mai accettato questo discorso bisogna pensare che nel mondo del calcio tu non puoi inserirti dentro una cosa disonesta perché se hai lavorato tutta una vita per creare un'azienda come modello come rappresentativa eccetera e metti a mischiarti nel calcio per rovinare tutto era pericoloso il suo settore giovanile ha prodotto giovani importanti uno su tutti Del Piero cosa si ricorda di Del Piero quando viveva per esempio alla guizza ricordo di Del Piero a parte le partite che quando c'era Fincato che era responsabile del settore giovanile che ogni volta tira una punizione e dice si attenta Del Piero si attenta Del Piero che segnava i gol come li sei adesso una favola no e dopo un'altra cosa che Del Piero abbiamo fatto in maniera perché ha attraversato un periodo che era giù di corda e l'abbiamo portato sull'altopiano di Asiago a spese nostre io andavo a trovarlo c'era ancora suo padre al mondo e veramente credo che abbiamo avuto un riguardo particolare per Del Piero purtroppo di Franceschi ha trovato che ha avuto la sfortuna dell'incidente dal resto era un ragazzo che prometteva molto bene difatti nella classifica diremmo così di giocatori al di sopra c'era De Franceschi e dopo Del Piero io chiedevo personalmente affincato di seguire questi giocatori e segnalare eventualmente il giocatore giocatori che emergono era difficile seguire il settore giovanile sa è difficile perché c'era i i mosconi li chiamavamo noi intorno che cercavano a portarteli via cercavano a andare a parlare con il giocatore per portarlo in altra società era difficile controllare quando io parlavo con i giocatori gli dicevo sempre che c'era un discorso di comportamento del giocatore un tipo di rapporto che era veramente buono e indicavo cioè come era nell'ambiente del Petrarca di avere questi giocatori innanzitutto che siano uomini onesti indipendentemente dopo che uno riuscisse nel grande salto qualitativo ma soprattutto la base di moralità da mettere in evidenza immaginava lei di poter andare in Serie A in questa zona che è finita con lo sparenza lo volevamo fortemente volevamo fortemente portare il padre in Serie A e cercavamo in qualsiasi maniera sempre una maniera corretta di arrivare a portare il padre in Serie A e ci siamo riusciti abbiamo fatto diversi tentativi prima però ci trovavamo insieme con delle persone con veramente poco con poca onestà e ci siamo trovati con grosse difficoltà a fare questo salto e finalmente dopo ci siamo riusciti ricordo come se l'è preparata e cosa fa si io con la sua macchina con la famiglia ci racconta questi particolari so che siamo andati e abbiamo partecipato all'incontro e abbiamo sempre cercato di mantenere una calma ma non era facile insomma non era facile fine non era facile Grazie a tutti.